I titoli Cronaca sventa una rapina mettendo in fuga i banditi, elezioni sempre meno votanti, poche le sorprese nei comuni, Ivrea la grande invasione che affascina la città e poi Pavone le ferie medievali sotto una nuova stella. Gentili telespettatori, buona giornata dalla redazione del Tg di Rete Canavese, prima la cronaca con un balzo ha scavancato il bancone del bar bloccando un rapinatore e mettendo in fuga il suo complice, pochi secondi ma di grande tensione per la tentata rapina nella ricevitoria della better annessa al bar Torino in piazza La Marmora ad Ivrea sabato, poco dopo le 19. Stefano Bordetto non ha esitato un secondo, nonostante le pistole spianate contro di lui e i tre colpi esplosi dai rapinatori, ha reagito e poi ha chiamato la polizia che è giunta sul posto e ha arrestato uno dei due, Lorenzo Costantini, un 29enne di Ivrea. Le telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi utili ad identificare anche il complice. Il sabato sera i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno scoperto un rave party abusivo programmato lungo le sponde della Dora Balte a Verolengo a confine con Crescentino. I militari hanno sorpreso e allontanato una ventina di giovani italiani provenienti da diverse località d'Italia. I ravers avrebbero ripiegato poi su un terreno privato nel territorio di Fron, poco lontano dalla strada provinciale che conduce a Busano, dove sono arrivati circa in 500, per la maggior parte italiani provenienti da regioni limitrofe. In Piemonte nel 2014 sono state sequestrate o retirate dalla circolazione 18.653 banconote false. Di queste la maggioranza, più di 10.000 erano pezzi da 20 Euro, a seguire quelli da 50, da 100 e quelli da 10 Euro. Sono alcuni dati del rapporto del Ministero delle Finanze sulla falsificazione dell'Euro. Il Piemonte è al sesto posto dopo l'Emilia Romagna e prima della campagna. E adesso le elezioni amministrative nei comuni canavesani. Cominciamo a vedere i risultati che hanno riservato poche sorprese. Andiamo in ordine alfabetico. Cominciamo da Baldissero, dove c'è stata la conferma del sindaco uscente Luigi Ferrero Vercelli, con il 77,12% dei voti, 22,87% per Simone Teodoro. I votanti sono stati 68,34%, 3,37% le schede bianche, 2,76% le schede nulle, 7 consiglieri per la maggioranza di Luigi Ferrero Vercelli, 3 per la minoranza di Simone Teodoro. A Caravino invece il sindaco uscente Antonio Bocchietti è stato battuto da Clara Angela Pasquale. I votanti sono stati 64,09%, 60,48% per Clara Angela Pasquale, contro il 39,51% di Antonio Bocchietti, 0,70% le schede bianche, 4,06% le schede nulle, 7 consiglieri in maggioranza per il neosindaco, 3 i consiglieri di opposizione. A Cascinette di Ivrea c'era un'unica lista, quella del sindaco uscente Piero Osenga, qui il problema era raggiungere il 50% più uno dei votanti perché le elezioni fossero valide, i votanti sono stati 53,16%, quindi Piero Osenga è stato riletto sindaco, non fa testo la percentuale ovviamente perché è una lista sola, i voti di lista sono stati 100% per il sindaco rieletto, 3,91% le schede bianche, 3,91% anche le schede nulle. Anche a Castelnuovo Nigre c'è stata la conferma del sindaco uscente Danilo Chiuminati, 53,28% contro il 46,71% di Anna Maria Giacchetti, una conferma comunque sofferta, la differenza come vedete ha di soli 20 voti, alta la percentuale dei votanti, è stata una sfida molto sentita, 71,36% neanche una scheda bianca, 1,61% invece per le schede nulle, 7 consiglieri in maggioranza per Danilo Chiuminati, 3 in minoranza con Anna Maria Giacchetti. E poi Lemie, qui c'è stata una delle sorprese, a Lemie c'era una lista sola, quella del sindaco uscente Lisa Giacomo, ma anche qui l'obiettivo come a Cascinette di Ivrea era raggiungere il 50% più uno dei voti e non è stato raggiunto, 39,58% i votanti, quindi l'elezione non è valida perché il quorum non è stato raggiunto, arriverà un commissario prefettizio, si tornerà a votare in autunno, non fanno testo quindi i 69 voti, il 100% dei votanti per la lista di Lisa Giacomo, 3,94% le schede bianche, 5,26% le schede nulle. Montalenghi anche qui conferma per il sindaco uscente Valerio Grosso, 55,70% contro il 44,29% di Giuseppe Brandolini, 60 voti di differenza, comunque una buona vittoria per Valerio Grosso, 64,53% i votanti, le schede bianche 1,28%, le schede nulle 2,38%, Valerio Grosso avrà in consiglio comunale 7 consiglieri, 3 per la minoranza. A Parella, Parella e sindaco uscente Roberto Comitini non si ricandidava alla carica di primo cittadino, la vittoria è andata e con un margine amplissimo a Marco Bollettino col 78,18%, 16,36% per Pier Massimo Guarnero, 5,45% per Fabio Toma, i votanti 53,89%, le schede bianche 1,70%, le schede nulle 4,68%, 7 consiglieri in maggioranza con Marco Bollettino, 3 per Pier Massimo Guarnero, mentre Fabio Toma non entrerà in consiglio comunale. Riconferma e riconferma sicuramente convincente a PON per il sindaco uscente Paolo Coppo, era una delle sfide più attese, bene, Paolo Coppo è stato riletto col 57,02% dei voti contro il 28,70% di Walter Portacolone e del 14,27% per Maria Grazia Truccano. Una vittoria quindi senza recriminazioni per le forze che hanno perso, 66,79% dei votanti, 0,83% le schede bianche, 2,49% le schede nulle, 8 consiglieri in maggioranza per il sindaco Paolo Coppo, 3 per Walter Portacolone, mentre per la lista di Maria Grazia Truccano sarà solo lei ad entrare in consiglio comunale. A Samone il neosindaco è Lorenzo Pietro Poletto, 54,79% dei voti contro il 45,20% di Luisa Spairani, 55,83% la percentuale dei votanti, 0,55% le schede bianche, 2,63% le schede nulle, 7 consiglieri di maggioranza per Lorenzo Pietro Poletto, 3 per la lista di minoranza. San Giusto, San Giusto era un'altra delle elezioni per le quali c'era attesa, ha vinto la vice sindaco reggente Giosi Boggio, una vittoria ampia, 56,61%, contro il 43,38% di Moreno Prono, schede bianche 0,59%, schede nulle 2,55%, Giosi Boggio avrà 8 consiglieri in maggioranza, 4 i consiglieri per la minoranza, 66,23% i votanti, una vittoria dicevamo anche qui che non lascia spazio di recriminazioni alle opposizioni. A Torre erano due le liste, Pietro Bertinetto non si ricandidava alla carica di primo cittadino, la vittoria è stata schiacciante per Giampiero Cavallo, 80,90% contro il 19,9% di Alessandro Confalonieri, i votanti 56,02%, 3,79% le schede bianche, 5,06% le schede nulle, 7 consiglieri in maggioranza per Giampiero Cavallo, 3 in opposizione per Alessandro Confalonieri. E sentiamolo allora il neosindaco di Torre quando lo spoglio era ormai in chiusura. A Torre una vittoria era nell'aria, però una vittoria con un bel distacco, adesso ci sono 5 anni davanti per lavorare. 5 anni impegnativi che speriamo con questo nuovo gruppo di giovani che si sono messi in lista con me, di portare avanti tutto quanto il nostro programma che è anche molto impegnativo, ma vedremo di mettercela tutto come abbiamo fatto nei dieci anni precedenti. Anche perché arrivi da un'esperienza, questa è un po' una gratificazione anche personale, insomma la gente ha riconosciuto il lavoro fatto in passato. Io ringrazio tutti quanti i torresi che mi hanno voluto, che mi hanno votato, ringrazio il sindaco uscente Piero Bertinetto, tutta la giunta, i consiglieri che per un motivo peraltro non si sono più messi in questa nuova tornata elettorale, li ringrazio veramente di cuore perché una mano me l'hanno sempre comunque data e la soddisfazione mia personale è molto molto grande. A te toccherà però adesso il compito di passare di testimone a questi giovani, 5 anni, poi cosa toccherà loro andare avanti? E vedremo in questi 5 anni di trovare qualcuno che abbia la voglia e la passione a dedicare a questo paese che lo merita. C'era grande attesa anche per il dato elettorale di Valperga e qui qualche sorpresa c'è stata, non tanto nella vittoria di Gabriele Francisca con il 42,99% contro il 31,15% di Corrado Marocco e il 25,84% di Davide Brunasso, sindaco che aveva poi dovuto lasciare perché non aveva più la maggioranza causando il commissariamento. 66,90% la percentuale dei votanti, 0,84% le schede bianche, 2,59% le schede nulle, qui la sorpresa è proprio la debacle dell'ex sindaco Davide Brunasso, sorpassato anche da Corrado Marocco, per quanto Corrado Marocco l'ha sempre detto e l'ha sempre dimostrato nelle elezioni, i suoi 500 voti li porta sempre, la sua formazione è in grado di portare questa percentuale di voti. Gabriele Francisca ha preso i suoi voti, Davide Brunasso invece certamente no. 8 consiglieri in maggioranza per Gabriele Francisca, 2 per Corrado Marocco e 2 anche per Davide Brunasso. Sentiamolo allora il neosindaco di Valperga, qui a Spoglio appena concluso. Una vittoria netta, una vittoria che non lascia adito a delle recriminazioni da parte delle altre liste, te lo aspettavi innanzitutto? I segnali erano positivi, eravamo molto fiduciosi, abbiamo fatto degli incontri pubblici che sono stati partecipati, credo che la gente abbia apprezzato soprattutto la squadra, la motivazione che tutti avevano, poi abbiamo lavorato tanto in questi anni e quindi l'auspicio era buono e ringraziamo tutti quelli che ci hanno votato e anche quelli che non ci hanno votato e comunque faremo le cose che ci siamo prefissati nel programma, che credo che siano l'obiettivo principale, cercando di coinvolgere le minoranze, che è una cosa molto importante, ricostruendo un clima di fiducia e di concordia nel paese che manca da troppo tempo, credo che la cosa più importante sia questa. Sarà il passo più difficile da fare perché Valperga di polemiche ne ha vissute in questi anni, è possibile secondo te, al di là delle buone intenzioni, tornare a un confronto sereno. Io credo di sì, penso che da parte nostra ce la metteremo tutta, è un obiettivo che ce l'avevamo già prefissati e chiaro non dipenderà solo da noi, ma come ho detto poc'anzi cercheremo di coinvolgere la minoranza nelle cose che a livello di programma, poi i programmi comunque erano per certi versi molto simili da parte di tutte e tre le squadre che si sono presentate e quindi è un obiettivo che dobbiamo assolutamente centrare per riportare questo paese alla normalità. Voi prendete le redini del comune dopo un commissariamento, non c'è un passaggio diretto da un'amministrazione all'altra? Questo è un po' più difficile, complica un po' le cose perché avete un po' un'amministrazione ferma, possiamo dire? Ma in parte perché il commissario in questi mesi ha lavorato molto, ha dimostrato che si potevano fare delle cose tangibili, importanti, noi continueremo a lavorare su questo solco che lui ha tracciato, ci sono delle risorse a disposizione anche economiche, spetterà a noi e ce ne assumiamo tutta la responsabilità di fare delle cose concrete che il paese aspetta da tempo. E ultimo in ordine alfabetico il comune di Vistrorio, anche qui c'è stata una riconferma, quella di Federico Steffenina col 59,02% dei voti, 24,81% per Marco Terzago, 16,16% per Manuela Capra, 60,89% la percentuale dei votanti, 0,73% le schede bianche, 1,1% le schede nulle, 7 consiglieri in maggioranza per Federico Steffenina, 2% per Marco Terzago e la sola Manuela Capra per la sua lista entrerà in consiglio comunale. E poi una delegazione dei sindaci dei piccoli comuni della città metropolitana di Torino, guidati dal sindaco di Bollengo Luigi Ricca, sarà domani alle 11 in presidio in piazza Castello a Torino davanti alla Prefettura per manifestare l'insoddisfazione per il taglio di risorse che appesantisce, dicono i sindaci dei piccoli comuni, le amministrazioni e impone di fatto la riduzione dei servizi fondamentali ai cittadini. La delegazione sarà ricevuta da una rappresentanza del prefetto, al quale saranno illustrate le criticità dei tagli lineari in uno scenario nel quale il debito pubblico dello Stato è aumentato di 13,6 miliardi di euro, mentre quello degli enti pubblici è diminuito dello 0,9 miliardi. Quindi, mentre i piccoli comuni da un lato contribuiscono al risanamento della spesa pubblica, continuando a risparmiare, lo Stato continua a spendere e taglia loro i fondi. Lasciamo la pagina amministrativa per una notizia però ancora di Cronaca, che è arrivata in redazione proprio poco prima di andare in onda. È stata di nuovo data alle fiamme la barca del lago di Candia, quella del parco. Ricorderete, era già successo la barca elettrica, quella che viene usata soprattutto per le scolaresche e poi per fare i rilievi che i tecnici usano. I tanti studiosi, i ricercatori che vanno nel parco di Candia usano questa barca elettrica. L'ente parco, anche con il contributo di altri enti della loro provincia, era riuscito a ricomprarla e è andata di nuovo a fuoco. Un nuovo atto vandalico, qualcosa a questo punto non va perché uno può essere un atto vandalico isolato. Alla seconda occasione certamente c'è qualcosa di più del solo vandalismo sotto l'incendio di queste barche dell'ente parco. Lo vedremo poi nelle prossime edizioni del Tg. Adesso andiamo ad Ivrea per la grande invasione che è tornata per il terzo anno consecutivo con autori e contenuti importanti ma anche con una formula e un linguaggio leggero che coinvolgono e affascinano e con l'integrazione sempre più viva della piccola invasione. La grande invasione parte da questo cortile così pieno, che soddisfazione è? Una grande soddisfazione, abbiamo giocato facile, fare dialogare Baricco e Geda sulla lettura è una partita vinta e quindi abbiamo giocato facile, siamo stati bravi a portarli qui a Ivrea, siamo molto contenti, partiamo con la terza edizione della grande invasione tentando di stare il più leggeri possibile, il più leggeri attraversando contenuti forti e importanti e ricchi soprattutto ma trattati con grande leggerezza per rendere questi momenti fruibili a tutti e che siano piacevoli e poco noiosi. La grande invasione cresce e cresce proprio anche nella cultura che riesce a trasmettere e nel linguaggio che usa per trasmetterla? Sì, forse abbiamo trovato una chiave, questo dovete dire voi, però cresce, cresce di anno in anno, la gente inizia ad aspettarla, si fanno le corse ai pochi appuntamenti a pagamento che sono poi il 12% su 90 appuntamenti, la sentiamo questa crescita ed è il nostro premio, noi volevamo questo, vogliamo non continuare a crescere, vogliamo stabilizzarci e fare sì che gli aporediesi e soprattutto i turisti vivano un momento, mi ripeterò e chiedo scusa, con dei contenuti importanti ma affrontati con grande serenità e grande leggerezza. Quanto c'è dietro all'organizzazione di una manifestazione come questa in un periodo in cui le risorse sono poche, in cui muovere personaggi come Baricca, insomma non è così facile? C'è tanto lavoro, ma c'è tanto entusiasmo, tanta passione e questo è sufficiente, le risorse fortunatamente il territorio interviene, interviene in modo importante attraverso la Fondazione Guelpa e poi attraverso tanti privati che hanno creduto in questo libraio e questo editore e quindi ci danno la forza e ci garantiscono la riuscita del Festival. I nomi arrivano perché forse il nostro Festival piace, scopriremo prima o poi il motivo e poi la forza lavoro, la forza lavoro di decine e decine di volontari che ci aiutano dall'organizzazione dei pranzi ai viaggi a semplicemente mettere le sedie a posto e questa è la chiave vincente. Quando hai cominciato, quando hai avuto quest'idea, pensavi di arrivare qui o dicevi ma proviamo timidamente poi vediamo? Io mi ricordo perfettamente la tua prima intervista, dopo la prima edizione, ci siamo lasciati dicendo che io credevo in questo progetto, tu sei tornato a intervistarmi, vuol dire che ci hai creduto in due e quindi sono contento. È importante portare in mezzo alla gente questo tipo di cultura? Sì è importante perché soprattutto è una gioia, è un'allegrezza, al di là dell'utilità sono momenti comunque per gran parte delle persone, sono momenti di lettizia, di divertimento magari poi lo sono anche di crescita ma non è poi neanche così necessario, comunque è una festa e quindi bene. Per un autore sentire la gente attorno così non è cosa usuale, forse per gli attori a teatro è più facile, un autore che scrive ha la percezione invece della gente che gli vuole bene e che la segue? Una volta non era usuale, adesso il nostro mestiere è girato in modo strano per cui in realtà siamo spesso in mezzo alla gente, dobbiamo stare attenti perché starci troppo poi non scrivi più niente. La cultura com'è cresciuta in questi anni? C'è cultura nella gente che legge? La cultura è cambiata, più che altro è cambiata, non so, cresciuta o diminuita non lo so, però è cambiata, la gente ha un cervello diverso, ha delle passioni diverse, è un periodo di grande trasformazione, molto interessante. All'albero della speranza libera che parla di libri, che parla di racconti, che legge racconti, qual è stato il vostro progetto all'interno di questa grande invasione che ha questa piccola ma importante invasione fatta da questi racconti? Noi siamo partiti da un presupposto, ovvero narrare e resistere, che è un po' il principio da cui partiamo sempre e quindi per questo evento abbiamo pensato che fosse interessante narrare di una realtà di cui tanti parlano ma che forse non si conosce a fondo come quella di scampia e ci piaceva dedicare questo racconto soprattutto ai piccoli e in particolare ci siamo focalizzati sul target dei ragazzi delle medie perché la percezione è un po' che spesso questi ragazzi siano un po' trascurati, ci sia tanta attenzione per i piccoli, ci sia attenzione per i grandi ma spesso questa fascia d'età resta un po' nel buio e quindi ci piaceva dedicare questo laboratorio soprattutto a loro. Il laboratorio si è concentrato su Rosario Esposito La Rossa che appunto è l'autore di Al di là della neve, il libro di cui abbiamo parlato oggi e che ha fondato una casa editrice, la casa editrice Marotte Caffiero proprio a Scampia e quindi di questo ci siamo occupati oggi. Racconti non proprio facili, quello del carcerato ad esempio non è uno facile da digerire, perché proporli e poi come l'han presa i vostri ascoltatori? Ma dunque sì, di sicuro racconti non semplici, non è stato neanche semplice effettivamente selezionare dei racconti che fossero adatti a questa età e quello che abbiamo cercato di offrire è stata un po' un'immagine di quella che Scampia vista dal punto di vista soprattutto per quanto possibile dei bambini. Quindi tre su quattro dei racconti che abbiamo proposto avevano come protagonisti dei bambini che o si inserivano nel circolo della Camorra e quindi abbiamo provato a spiegare attraverso gli occhi dei piccoli quali sono le motivazioni che portano a far parte di questi traffici illegali oppure i bambini che invece non capivano perché il papà dovesse dare una parte del proprio stipendio, dei signori oscuri che ne chiedevano appunto, che chiedevano dei soldi. O ancora un bambino che è costretto appunto ad andare a lavorare per aiutare la famiglia. Quindi insomma provare a offrire un'immagine più realistica possibile di quella che è una realtà molto complessa ma anche offrire un po' una speranza e un'opportunità anche a ciascuno di noi di poter fare la propria parte anche semplicemente conoscendo e quindi provando ad informarsi a capire come funzionano queste logiche e quindi provando ad inserirsi per quello che si può in questo tessuto sociale che è piuttosto complesso. Adesso un po' di appuntamenti nella sala consigliere di Chivasso domani alle 10.30 in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, presentazione del libro L'Alba della Libertà, la Liberazione di Chivasso 1945. Ad Ivrea invece domani primavera a Porta Torino organizzata da Toni Cuomo e dai commercianti della zona, l'appuntamento alle 9 con i mercatini dell'antiguariato, i produttori del territorio, poi gli aperitivi nei gazebo. Con la collaborazione dell'Associazione Gessetti Colorati anche un concorso gastronomico che ha coinvolto le scuole, alle 12 ci sarà la premiazione, alle 13 l'attrattiva principale, la grande zuppa di pesce preparata dagli chef dell'Aquila Nera e distribuita gratuitamente, oltre 4.000 porzioni con 15.000 kg di pesce. Poi ci saranno Yamisla Crota, La Rondanza con musica e balli popolari, poi Maghi, Trucca Bimbi per i bambini, insomma ci sarà divertimento per tutta la giornata. Comincia domani anche il Festival Morenica con una grande ospite, Ottavia Piccolo, nel pomeriggio alle 18 incontrerà pubblico al Teatro Bertagnoglio di Chiaverano e in serata sarà il Teatro Giacosa di Ivrea con Donna non rieducabile. Sempre domani annole la consueta Sagra dell'Ofera, la fiera dedicata alla tradizionale cialda canavesana. La Sagra apre i battenti alle 9, oltre 160 le bancarelle di espositori ed artigiani. E poi un tuffo nella storia, quella del 1300. Sono le ferie medievali di Pavone che con la 21esima edizione ripartono da un nuovo comitato organizzatore. Da più di vent'anni ormai il comune di Pavone, dalla fine di maggio e l'inizio del mese di giugno, si riappropria di un grande appuntamento con la storia, quella del Medioevo in Canavese, vissuto da personaggi festanti in costume, duelli e antichi sapori proposti nei ricetti. Sono le ferie medievali e la 21esima edizione, quella del 2015, segna una svolta con il recente passato, con un'organizzazione rinnovata alla quale partecipano tutte le associazioni culturali e di volontariato del territorio, sotto legida del neonato comitato rievocazione storica. Ferie medievali rinnovate e sempre suggestive? Sì, direi di sì. Sono partite bene, il tempo ci ha aiutati e speriamo che sia così per gli altri giorni. Sempre suggestive, qualcosa è cambiato. Con questa festa siamo riusciti a riunire tutti, nel senso tutte le associazioni, i commercianti, noi abbiamo contribuito sotto l'aspetto organizzativo dell'organizzazione, della sorveglianza, del territorio, ma devo dire che se il tempo ci aiuta credo che saranno migliorate anche rispetto agli anni passati. Le taverne saranno poi il punto forte la prossima settimana di questa festa? Devo sì. Abbiamo anche gli artisti della Panissa, arrivano dal Vercellese, gli amici della Panissa, devo dire che offriremo molto di più rispetto agli altri anni. Ci sono 5-6 taverne, hanno condiviso dei menu diversi, delle offerte diverse. abbiamo curato particolarmente l'aspetto di offerta, l'aspetto del mangiare, della qualità del cibo, della differenza. Le premesse ci sono, la partenza è buona e devo dire che c'è anche l'armonia giusta per avere buon risultato. E si conclude qui questa nostra edizione del Tg. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.